Sant'Agata alla Chiesa, siamo nuovamente qui su uno spaccato del territorio dove la fuga dell'amministrazione comunale di Reggello ci ha regalato un'ennesima speculazione di Lizia, 27 abitazioni quindi abbandonate in un'area fortemente quindi degradata e come vedete in un profondo stato di abbandono. Sulla vicenda di questo cantiere come gli altri sono seminati in tutto Reggello, noi siamo intervenuti più volte per chiedere ovviamente all'amministrazione comunale che non mettesse in sicurezza le aree e comunque trovasse una soluzione per porre fine quindi al degrado. Nonostante ecco le numerose interrogazioni che abbiamo fatte, la richiesta appunto di messa in sicurezza, questi sono gli effetti che hanno lasciato alcuni decreti sindacali. Decreti sindacali giusti, inefficaci, inefficienti e l'amministrazione comunale di Reggello non ha alibi, bene perché lo spettacolo che si presenta parla da solo.